Un pareggio in casa del Poggi Bonzi, un pareggio che i padroni di casa recuperano solo nel recupero grazie ad un calcio di rigore. La San Giovannese qualche rammarico deve però averlo per non aver saputo sfruttare a un certo punto la doppia superiorità numerica creatasi sul rettangolo di gara. Con l'infortunio della vigilia di Chiarini, la squadra che scende in campo a Lotti è quella attesa e prevede D'Ambrosio titolare in difesa, per lui ex colligiana è una sorta di derby e Romanelli a destra in avanti al posto di Garufo in Sicilia per un permesso familiare. Davanti Alteri non è neppure in panchina, Cardini invece sì e così con Staffolani, Cecchiopris e Gori. A dare inizio alle ostilità è un destro dalla lunga distanza di Turetta che non impenserisce però Vaccarecci. Risponde la Sangio con un calcio piazzato dal limite di Dianda, la sfera indirizzata sotto la traversa, Bini vola a deviare in angolo. Sui sviluppi del corner unico della prima frazione, la sfera filtra per Zane che si imposta male per la conclusione, mandando alto sopra la traversa. Il brivido più importante prima del riposo lo portano i padroni di casa, Chiopris Gori da sinistra, centra per Rovrena che fa sponda aerea per Turetta al rimorchio. Ancora Vaccarecci nega la rete all'ex del Bassano. Senza neppure un secondo di recupero si va a riposo nell'unico modo possibile, ovvero quello delle reti inviolate. Cambia tutto però nella ripresa e nel giro di quattro minuti a cercare la via del gol sono primi assassenti da una parte e Staffolani dall'altra con medesimo risultato, ovvero un angolo susseguente. Aumentano i giri per gli azzurri che sul colpo di testa di D'Ambrosio vedono solo l'illusione del vantaggio. Al minuto numero dieci sulla punizione di Pippi Bini è ancora una volta attento e devia in corner ma le svolte arrivano presto. Per doppie ammunizioni Chiopris Gori lascia i suoi l'inferiorità numerica e ancora per un dubbio fallo su Cori anche Patarini deve finire sotto la doccia. Ma in questa circostanza è anche assegnato un calcio di rigore al Marzocco che Pippi trasforma. Raimondi fallisce quella che sarebbe stata la rete della tranquillità ma mentre Turetta effettua un controbalzo importante con Vaccarecci battuto, Bricca fa la fine dei suoi due avversari lasciandosi andare ad un fallo di troppo. I minuti passano, si arriva al recupero, ecco il secondo penalty della giornata per intervento su Salvadori. Guaita segna e finisce così. I dubbi su entrambi i penalty, permettetecelo, restano.